Una prestazione importante su un campo difficile, 2-0, un risultato anche molto deciso, prestazione decisa. Sì, è stata una messa alla prova proprio della nostra e anche dell'Altamura, perché questo è proprio un campo oggi, il primo campo pesante della stagione, per cui nessuno era abituato e devo dire che anche all'inizio della gara è stata una gara un po' strana, insomma si è stato più un adattamento al fondo che altro. Poi tra l'altro noi abbiamo sempre il sintetico, per cui troviamo ancora più difficoltà. Poi è stata una gara che è stata decisa anche da episodi dove noi siamo stati molto più concreti ed efficaci rispetto a loro. Come si preparano partite di questo tipo? No, come tutte altre, noi prepariamo le partite, cercando di conoscere anche quelle che sono le giocate, le partite anche precedenti della squadra che andiamo ad incontrare, ma al di là di questo noi dobbiamo solamente prendere sempre più consapevolezza di quella che è la nostra squadra, tutto qua. Adesso anche con altri risultati che arrivano da altri campi, la classifica continua a farsi molto importante, dove vuole arrivare il Cerignola? Fare un campionato importante, è inutile nasconderlo, lo dite in tanti giustamente perché comunque abbiamo anche una buona rosa per farlo dire, solo che noi lo vogliamo dimostrare ed è la parte più difficile, la parte più difficile perché poi non bisogna lasciarsi prendere da quello che siamo sulla carta, nella maniera più assoluta, noi dobbiamo essere, anche noi come tutte le altre squadre di questo girono, affamati mentalmente.